Salve a tutti, sono Fofofofo4 e quest'oggi parliamo di Archimede. Allora, lui nacque a Siracusa il 287 a.C., morì sempre lì nel 212 a.C. La vita del matematico siracusiano è un intreccio di realtà leggente. La stessa nascita è volta nel mistero, perché dalla sua data di nascita è stata redotta la data della morte. Aveva infatti 75 anni quando fu ucciso da un soldato romano e al termine dell'assedio di Siracusa. In una sua opera arenario, dedicata all'elaborazione di diversi corpi celesti, lui riferisce di essere figlio di Fidio. Non Fidio il pittore, Fidio che era un astronomo. E Archimede è molto importante per noi, perché lui inventò la leva e senza di lui non ce l'avremmo. Vabbè, per questo video è tutto. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale. Ciao, ciao! Ciao!